De congestionare subito le file chilometriche di auto per i tamponi a Casalena di Teramo. L'ASL decide di aprire altri sei drive-in sul territorio provinciale, alcuni già attivi, altri pronti a partire. Le sei nuove sedi oltre Teramo, dove potersi recare per effettuare i test, saranno collocate a Roseto, Isola del Gran Sasso, Montorio, Campli, Tortoreto e Atri. Intanto si moltiplicano gli sforzi dell'azienda sanitaria per creare ulteriori posti letto per i contagiati da covid. All'ospedale Mazzini, operativo da oggi all'interno del Dipartimento Materno-Infantile, diretto dalla dottoressa Anna Marcozzi, una struttura blindata dedicata alle donne positive pazienti del reparto. Negli ultimi mesi al nosocomio Teramano, cinque mamme affette da covid hanno dato alla luce i propri bambini e la loro permanenza in ospedale era prevista nell'ala covid della chirurgia. Ora invece le donne avranno a disposizione un'area riservata e percorsi adeguati alla loro particolare condizione. Anche ad Atri ci sono delle novità. La sala convegni sarà adeguata con la realizzazione di tre posti letto e una sala di emergenza rossa covid a servizio del pronto soccorso. E a proposito di ospedali, ritorna in augia il progetto di ampliamento del Mazzini di Teramo, proprio a Villa Mosca, come alternativa alla nuova struttura di Piano Daccio, soluzione caldeggiata da buona parte di cittadini. La proposta è arrivata in questi giorni da cinque imprese che progettano la nuova costruzione accanto all'attuale sanatorio, con un edificio a tre piani di altezza, uguale al terzo lotto e che conterrebbe 600 posti letto per acuti. I tempi di realizzazione sarebbero intorno ai tre anni e la viabilità non subirebbe variazioni di rilievo. Sarà ora l'asla di Teramo a dover decidere.